Benvenuti sul canale YouTube di Cubase.it E' ora possibile richiamare Mix Console in una pagina separata o nella zona inferiore dal menu periferiche o con comandi da tastiera, oltre che dal consueto pulsante nella toolbar della finestra progetto. La Mix Console di Cubase offre la possibilità di annullare le modifiche apportate. Variazioni di volume, Pampot, inserimento di plugin e modifica parametri, routing e in generale tutte le operazioni che si possono compiere sul mixer di Cubase possono essere ripristinate utilizzando tasti specifici, comandi da tastiera o una Undo History. Due pulsanti situati sulla parte sinistra della toolbar consentono Undo e Redo. In alternativa, la stessa operazione può essere effettuata utilizzando i comandi da tastiera Alternate Z e Shift Alternate Z. Oppure è possibile utilizzare un Undo History che consente di ripristinare la Mix Console ad un determinato punto del processo di lavorazione. La finestra della Mix Console è stata ridisegnata per una maggiore facilità d'uso. La gestione della toolbar della Mix Console rispecchia quella implementata nella finestra progetto. Tre pulsanti consentono di nascondere le zone sinistra e destra e di nascondere o mostrare il rack dei canali, mentre un quarto pulsante attiva la finestra di configurazione del layout. Un ulteriore menu di configurazione permette di personalizzare la toolbar. Sono presenti nuovi Left e Right Divider che permettono di modificare la posizione delle funzioni nella toolbar. Nella zona sinistra sono stati aggiunti inoltre la storia degli Undo Redo ed un pulsante per sincronizzare la Mix Console alla visibilità del progetto.